Notizia scioccante, Facebook potrebbe chiudere in Europa Facebook e Instagram perché Zac ha detto ragazzi qua col problema della privacy GDPR che qua i dati non possiamo ritrasferirli tra i sociali, c'è fare tutti i nostri gimastrici, allora sapete cos'è? Forse chiudiamo in Europa, questa è la notizia che è un po' trapelata. Per rispondere però alla domanda se Facebook chiuderà in Europa oppure no, ci arriviamo in fondo ma prima cogliamo la palla al balzo per una mini analisi di Facebook che mi sembra interessante, la prima considerazione è il peso dell'Europa per Zac il 15% degli utenti di Facebook stanno in Europa per cui qui squiglie rispetto a un 3 miliardi Zac potrebbe anche futtersene e zappar via l'Europa però due considerazioni diverse vanno fatte sul peso dell'Europa che sono il fatturato un quarto del fatturato o una roba del genere passa comunque dall'Europa è allora un peso specifico rilevante sul titolo eccetera e poi in generale il problema di non essere in Europa è un problema di rilevanza culturale perché qua c'hai capito Francia, Italia, Spagna, cioè tante culture che comunque hanno una rilevanza planetaria e tu esci proprio dalla testa delle persone e apri la strada, la concorrenza che è già fortissima e qua si apre il capitolo concorrenza TikTok a Zac gli ha fatto un mazzo così, questa è la verità paradossalmente gli ha fatto un mazzo così investendo miliardi in pubblicità sui network di Zac per costruirsi quest'app che oggi è super virale e hai visto uno spostamento in massa su TikTok di una certa fascia di età più sbarbata in generale anche se poi su TikTok hai sempre di più come sempre succede sulle piattaforme un invecchiamento naturale perché all'inizio partono i più sbarbati e poi arrivano tutti gli altri quindi questo è sempre quello che succede l'altra cosa è che Zac ha questa concorrenza di Apple e Google che è veramente strozzante perché Google e Apple hanno in mano il sistema operativo del pianeta ce l'hanno loro, l'abbiamo già detto in un altro video fanno comunella perché Google paga 15-20 miliardi ad Apple per essere il motore di ricerca dominante all'interno dell'universo di Cupertino e a questo punto sai, non è che hanno lo stesso rapporto Tim Cook e Zac rispetto a Tim Cook e Sundar Pichai di Google no, non è lo stesso rapporto uno gli dà i ciocori e l'altro invece cerca di fargli la guerra e questa situazione al buon Marchetto gli rompe un bel po' un bel po' e purtroppo per lui non può neanche fare grandi acquisizioni ad esempio immaginate se l'acquisizione di Activision Blizzard c'è un diavolo per capello oggi, Activision Blizzard fosse stata fatta invece che da Microsoft da Facebook Zac diceva, spendiamo 80 miliardi per comprarlo noi ma lo mandavano in galera e buttavano via la chiave non si può più muovere Zac, perché? a un lato per colpa sua, perché negli anni ovviamente la colpa di Marchetto è la colpa di Facebook in generale poveretto lui, insomma non è che c'entra solo lui però negli anni ne hanno fatta una più di Bertoldo e il mondo è addosso il secondo problema è che Facebook al contrario di Apple, Microsoft e questi qua Microsoft è sul mondo delle aziende quindi non mi frega niente a nessuno Apple e Google sono sul consumatore finale ma sono meno al centro del dibattito politico le fake news che ha per i politici una rilevanza Facebook allora, occhi puntati avete fatto cazzate in passato? sì e in più avete una piattaforma che può avere una conseguenza sulla vita politica quindi vi facciamo uno scrutinio mazzo così e non potete fare niente allora, così non puoi crescere con l'acquisizione la concorrenza ti massacra i talk ti passano davanti anni luce il brand di Facebook è stato interamente sputtanato infatti l'han cambiato e si chiamano meta deve trovare altre soluzioni e la direzione futura è il metaverso rinominato in meta mondi virtuali hanno investito un sacco ma oggi perdono 10 miliardi all'anno non è pronto quel mondo lì ma lo sa benissimo Zac non è mica un coglione lo sanno perfettamente non è pronto è una visione di prospettiva nel frattempo cercano di barcamenarsi con loro 3 miliardi di utenti e cercare di spostarsi il più rapidamente possibile in una situazione in cui siano loro un sistema operativo o quantomeno abbiano un peso diverso rispetto al Google e Apple di turno in tutto questo entra dentro il Web3 con il mondo crypto e NFT vi ho già fatto una testa così andate a rivedere i video ma è evidente che tutto il mondo di quelli che creavano contenuti su Facebook, su Instagram gli ha detto i lavori le persone più smart sono già tutte andate non c'è più nessuno su Facebook, su Instagram sì, gli metti video o l'aggiornamento giusto per tenere un posticino in più ma chi se ne frega non è il posto rilevante non è il posto dove dici vabbè e se me lo tolgono vabbè se me lo tolgono chi se ne frega questa è un po' la sensazione brutta che Zac e il suo team conosce bene lo sanno e bisogna trovare una soluzione se in più chiudessero anche l'Europa figurati è un disastro per cui morai dalla favola l'Europa non chiude non preoccupatevi troveranno una soluzione Biden chiama di qua qualcuno dell'Europa e dice ragazzi eh non facciamo i coglioni va bene la troviamo una soluzione oppure non so fanno una versione light la versione pelata qua non lo so una soluzione a naso la trovano conviene a tutti insomma alla fine dei conti conviene alle aziende che vogliono fare pubblicità so conviene un po' a tutti quanti ma questo non toglie una situazione problematica per Facebook paradossale perché è una mega azienda chiaramente quindi due lire comunque per fare la spesa Mark ce li ha però magari dobbiamo fare una colletta facciamo una DAO come quella di Assange che adesso ha raccolto non so 40-50 milioni una DAO per coprire le spese legale di Assange faremo la DAO Mark DAO per raccogliere due spicci due cioccoli per fargli fare la spesa a lui e a Priscilla e cercare insomma di tenerlo in vita mentre si sposta sul metaverso devo andare adesso ho sparlato anche troppo per iniziare un altro giro e un'altra corsa grazie a tutti